contro del vivere in svizzera hello everyone ho questa immagine romantica no che la svizzera il posto che è bellissimo e quindi è il migliore migliore uno dei migliori vi posti dove vivere che potrebbe anche essere vero e sto sempre pensando di voler avvenire svizzera e sento dolore per ogni giorno che non sto lì sono incapace di muovermi al momento perché sto con una persona che non vuole abbandonare the state non so quale intenda di stato let alone moving across the pond to the entire different country ok può qualcuno da portarmi un attimo sulla terra e dirmi qualche contro del vivere in svizzera conosco tutti gli anti pro ditevi qualche contro io pago 350 al mese con la più alta franchigia possibile per la cassa malate per la situazione sanitaria abbiamo avuto un shake up la settimana andato da dermatologo ho pagato 1300 manco coperto da franchigia non è che mi sto lamentando è intenzionale ma odio quando leggo online che abbiamo free health care hai pagato l'assicurazione certo i primi di 2005 li paghi tu quindi via il primo contro che la gente ha menzionato è che costa troppo la parte sanitaria si anch'io quando vai da un dottore gli lasci 100 franchi per 15 minuti beato te così poco e ti da l'ibuprofene sempre così sempre così anch'io ho l'ibuprofene qua dottore bravo o ibuprofene o da falgan e se è fortunato se if it stays at that poi qualche volta dimandano da unnecessary test and procedure just to make more money e le assicurazioni hanno tanti loopholes quindi quando crei un'assicurazione hai un senso che sei coperto ma in realtà poi no perché se fai una cosa che esce un po' fuori ci sono qualche small detail quindi la gente si lamenta dell'aspetto sanitario altra cosa negativa very expensive concordo swiss are generally introverts so making friends is very hard masticazzi masticazzi chi c'ha bisogno degli svizzeri per fare amicizia qua housing crisis probabile non lo so io sto in una casa che amo che costa poco probabile però so che adesso cercare un affitto dignitoso è improbabile quindi restiamo però in very expensive healthcare cost crisis abbiamo la seconda most expensive healthcare system in the world and no free healthcare as the rest of Europe quindi sempre expensive unpredictable weather which gets worse every year a me piace il meteo qui piace d'estate adesso è bellissimo 29 gradi fissi sole è un mese che non piove sole e 29 gradi e non zanzare meraviglioso certo sì ti becchi a maggio che ha diluviato tutti i giorni se becchi la primavera fa schifo hostile money rules the world culture mindset paghi tutto anche la slice de pane paghi tutto outdated gender norms questo non è affatto vero non è affatto vero le mamme stanno a casa non è comunque affatto vero cioè questo qui non è affatto vero anzi qui abbiamo uno dei posti con più diritti cioè con cui le unioni civili sono equiparate a matrimoni zero discriminazione su qualunque forma di qualunque cosa io ho vicini di casa ho una coppia di donne che abitano qui nel mio edificio e una coppia di uomini nell'edificio accanto marito e moglie sposati non percepisco affatto alcuna nulla ho tanti amici gay how dare you having kids when you must bring them to daycare ok costi di health care di child care e in generale è difficile portare i bambini to bring kids and work under one roof at least as a woman ok però ci sta ci sta un incubo per i non ricchi costi alti non è proprio vero di vedere costo reddito concordo concordo diciamo che però c'è c'è un'ondata di anti work anti capitalismo qua in Svizzera perché è vero che il rapporto costo reddito è ancora molto alto però il reddito medio è molto sbilanciato perché sono delle professioni che guadagnano tanto però i redditi bassi sono un po' fermi e l'aumento del costo della vita sta portando il ceto medio medio basso al non essere più benestante se prima tu con lo stipendio da cassiere alla cop ci vivevi tranquillamente in un bilocale a Zurico e ci vivevi tranquillamente non so se adesso il cassiere alla cop in Italia ma è la cop può essere sì ma il cassiere all'esse lunga non so se ci vive in un bilocale a Milano non lo so adesso non più cioè gli affitti sono aumentati il costo di vita sta aumentando rapidamente e le bambine urlano ma gli stipendi dei ceti più bassi non sono aumentati ne ho uno che è un po' silly novembre in novembre il meteo è grigio grigio no sunshine no clear sky e la temperatura è fredda e umida good point good point in realtà io odio di più marzo-aprile marzo-aprile-maggio perché marzo-aprile-maggio sono veramente impredicibili qua in Svizzera spesso ti becchi tempo di merda e tiro del culo perché sono di Roma e a Roma ad aprile fa 40 gradi forse forse literally però io so di Roma e ricordo che anche già a febbraio se il tempo era bello andavo al mare non ho il bagno ma l'otto marzo spesso andavo al mare e qui vedere che aprile potarsi fa proprio freddo marzo-maggio potarsi fa proprio freddo tiro del culo un anno anche giugno ricordo che era il 2014 forse anche a giugno ha fatto freddo ho detto ma no cioè dai quello sì più che nove novembre lo sai che fa freddo novembre lo sai che fa freddo per cui va bene così now for something more serious Switzerland would be a nice place to live in ma il i conto del del spostarti di nazione non non pesano di più dei benefici del muoversi vabbè però ok però è un sunk cost questo qui cioè un one off allora americano che vive in Svizzera altro paio di ragioni perché non è un paradiso la gente Svizzera fuma tantissimo è vero ma rispetto all'America infinito anche rispetto all'Italia la Svizzera fumano tutti fumano nei posti nelle fermate dell'Ao fumano tanto quindi comunque è bannato il fumo all'indoor ma i public space sono pieni di smoker che fumano e via adesso mi sono abituato ma è stato scioccante all'inizio ma gli americani fumano pochissimo per cui capisco qua fumano tutti perché la pubblicità del fumo è legalizzata e trovi le pubblicità ovunque delle sigarette è una cosa un po' disgustante e poi anche mi dà proprio fastidio anche una volta ho fatto anche una battuta ho fatto chiediamo a quei ragazzi no non sono svizzeri rimanano la sigaretta in mano fumano tutti culture o public shaming se tu violi una regola ad esempio metti la tua spazzatura nel giorno sbagliato così bla 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 puoi attenderti una angry legend ti vengono a cazziare anche i vicini e gli stranieri vabbè non mi è mai successo non so cosa intende e la cultura è molto forte nelle regole di gruppo come uno straniero sei sempre percepito come un sospetto vabbè americano ogni mese arriva una nuova bolletta nella posta che non ti aspettavi per centinaia di franchi tutto è chiuso non è vero tutto è chiuso la domenica mannaggia questi paesi civili vai a Istanbul è tutto aperto 24 ore su 24 con gente entra in quel negozio compra e compra e compra nei paesi civili è bello che a un certo punto la gente i posti siano chiusi è tutto costoso c'è sempre dei fio delle tasse trovare appartente difficile bank account per americani e monnezza te americani qua verrai spesso giudicato e ogni volta che ti lamenti di qualcosa ci sarà qualcuno che pensa che saprà tutto e ti farà public shame perché non te l'hai dimenticato una cazzatina è colpa tua vabbè vabbè in generale sei contento di Zurigo per come sono dicendo i tuoi figli e il posto è sempre che negli anni passati Zurigo è perfetto se non fosse super caro però è come dire oh che bello sto ristorante con tre stelle cazzo tre stelle Michelin è buonissimo peccato che è caro grazie al cazzo che è caro ha tre stelle Michelin Zurigo ha cinque stelle Michelin come posto e è caro per cui è ottimo è ottimo forse anche ottimo in termini di rapporto qualità prezzo però è in un punto della curva domanda offerta che non so se mi voglio posizionare no anche la Kobe Beef magari è buonissima e vale i soldi che costa però non me la mangio è lo stesso so che so che è buona però costa troppo e quel budget che ho speso che ho messo è quello lì quindi in teoria sono contento sì è un posto che a mio avviso complessivamente è fantastico è il posto migliore in cui ho vissuto non è che l'ho vissuto in tanti però è molto costoso l'unica downside che è molto costoso